A Palacus con il Borromeo per parlare del derby. Ora, il Borromeo ha giocato in maniera molto molto intensa questa partita, è stata molto fisica. Abbiamo visto problemi di crampi, cosa è successo? Come mai questa sconfitta? Erano semplicemente superiori oppure avete qualcosa da migliorare in vista delle prossime? Abbiamo di sicuro qualcosa di migliorare, si è sentito il fatto che fosse l'inizio del campionato, quindi la prima partita. Faremo tesoro di questa partita e miglioreremo. Un esordio difficile con il Ghislieri, subito derby, subito partita importante, ma il fatto che è stata partecipata dal mese scorso a questo mese, subito dopo Natale, possono aver influito anche le feste o il mese scorso eravate un po' più pronte? Di sicuro le feste hanno avuto il loro peso, però questo periodo ci ha anche servito per focalizzare un po' più l'attenzione sull'obiettivo, cioè questo derby. La prossima sarà altrettanto difficile contro il Nuovo, tra una settimana come vi approccerete, come preparerete questa partita? Memori di questa partita ci metteremo di sicuro più grinta, sapendo che il Nuovo ha una squadra molto forte, ma siamo pronti a sconfiggerlo. Va bene, allora vi aspettiamo un po' alla Cusa la prossima settimana. Settimana prossima. Grazie mille. Grazie mille.